Anche l'anno scorso... Jacopo Fanucchi è una delle 5 stelle da cui la Lucchese ripartirà e quando diciamo stelle intendiamo soprattutto giocatori esperti e solidi attaccati alla maglia e quindi uomini da spogliatoio. Jacopo Fanucchi sembra destinato a giocare per il terzo anno consecutivo con la maglia della Lucchese dove magari vorrebbe chiudere anche la sua lunga e onorata carriera. Lopez non ha fatto richieste specifiche sui nuovi acquisti ma ha indicato il 35enne fantasista classe 1981 tra quelli che dovranno aiutarlo a ricostruire una bella Lucchese e con lui, lo sappiamo, ci sono i vari Nolè, Specie, Mingazzini e Capuano gente su cui si può sempre contare. Fanucchi ha vissuto una stagione abbastanza anonima nella prima parte anche perché chiuso da Forte e Terrani ma nel girone di ritorno e playoff ha dimostrato di essere ancora elemento di assoluto valore per la categoria uno cui sarà difficile rinunciare anche in futuro. 33 presenze alla fine, 5 reti tra le quali ricordiamo quella su rigore a Tardini di Parma dell'illusorio vantaggio che aveva fatto sperare addirittura in una clamorosa semifinale. Ma tant'è, tra l'altro con l'avvento di Lopez a fine marzo Fanucchi ha fatto coppia in avanti con De Feo col quale aveva trovato anche una buona intesa una strana coppia formata da un esterno e da trequartista ma che a modo suo ha fatto bene già perché quando classe, intelligenza ed esperienza si mettono al servizio della squadra le cose spesso funzionano bene.